Ferma! L'avvocato dice che potrebbero esserci delle attenuanti. Andrea era ubriaco. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Mamma sta arrivando. Ci vediamo dopo. Grazie, Renato. A dopo. Ciao. È che così, da sola. Ho paura di tutto. Con lei qui, adesso è diverso. È il marito della... della donna che... Renato è guasto. Si dimentica sempre tutto. Lucio! Charlotte! Ciao, Lucio. Ciao. Che ci fai qui? Sono venuta a trovare il nonno. Tu torna presto, però, che non mi piace stare da sola. Ve lo daresti un passaggio? Merci. Qualche giorno fa c'era un uccello in casa. Sembrava che volesse qualcosa. Se vuoi continuare ad avere rapporti con lui, non avrai più rapporti con me. No. 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 Non si può costringere una donna a scegliere tra il marito e il figlio. E io ho scelto.